In una bottega d'orefice, magnifica e onorata, molte cose di sé hanno lasciato al mondo meraviglia. Erano, nella Firenze del Magnifico, Antonio e Piero del Pollaiolo, fratelli assai lodati, eccellenti nel disegno, in pittura e nell'intaglio. E noi siamo donne, come vedete, giovanette, vaghe e liette, tra ori argenti e bei ricani. Or, che va al nostra bellezza, viva amore e gentilezza! Le Dame dei Pollaiolo, una bottega fiorentina del Rinascimento, al Museo Pol di Pezzoli di Milano, dal 7 novembre al 16 febbraio 2015.